Comitato per i diritti umani Relazione del garante dei detenuti Bilancio e finanziaria in commissione Sette giorni in consiglio Nella seduta del 14 aprile il garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ha svolto la prima relazione annuale delle attività al 31 marzo 2015. Il consiglio regionale ha poi effettuato alcune nomine di competenza e in chiusura ha approvato la mozione del Movimento 5 Stelle per l'inserimento delle protesi acustiche e digitali nel nomenclatore nazionale. Il consiglio regionale ha nominato i componenti del Comitato diritti umani organismo guidato dal presidente Mauro Laus che ha sostituito l'associazione per il Tibet. Ne faranno parte due componenti dell'ufficio di presidenza le consigliere Enrica Baricco e Gianna Gancia gli ex consiglieri Eleonora Artesio e Giampiero Leo oltre 10 personalità esperte in materia. Scende il numero dei detenuti nelle 13 carceri piemontesi. Dagli oltre 5.000 ad inizio 2013 si è passati a 3.595 del 24 marzo 2015 di cui 2.700 in esecuzione penale esterna. Resta però aperto il problema del reinserimento lavorativo miglior strumento per abbattere il rischio di recidiva e quanto emerso dalla prima relazione annuale sull'attività del garante dei detenuti svolta in aula nella seduta del 14 aprile. C'è un ruolo decisivo della politica, dell'amministrazione sia degli enti locali ma tanto più della regione Piemonte perché l'amministrazione penitenziaria non riesce a rendere attivo l'articolo 27 della Costituzione per corsi di reinserimento sociale, lavorativo, di rieducazione del detenuto. La regione deve tornare ad un modello Piemonte che è stato quello degli anni 90 si deve essere più attivi, più interventisti proprio perché è un interesse sociale anche economico di rendere la pena laddove necessaria, efficace, effettiva ma anche utile. Prosegue in prima commissione l'esame di finanziaria e bilancio regionale. La Giunta ha presentato il piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e i programmi di spesa dei fondi europei. Si è parlato anche del Palazzo di Piazza Castello che sarà messo in vendita quando la Giunta regionale si trasferirà nel Grattacielo la nuova sede. Grazie a tutti.